buongiorno buona giornata a voi tutti in questo giovedì 17 settembre 2020 non è venerdì quindi ci dobbiamo grattare per fortuna stavo esorcizzando sembra sera anche perché in realtà c'è un cielo abbastanza grigio fuori spero anche non piove bene questo primo video di oggi anche perché se ce la faccio potrebbe uscire già stamattina il video su WWE 2k battlegrounds il gioco che esce domani vediamo un po allora partiamo quindi sono dicendo la sfida shamrock rovers milan dalle probabili formazioni from the sky qui mi danno un 4-4-2 per la shamrock malnus scales lopez laferti grace byron fin mckenneth o'neill gran bork bradley allenatore milan 4-2-3-1 gigio donnarumma in porta in difesa calabria e gabbia e care hernandez poi benasera castiglieco cialanoglu salemecas ibraivovic allenatore stefano piu quindi io che sono difuso milanista ovviamente mi auguro che il mio melano posso passare il turno niente ci vediamo al secondo video che sicuro arriva dopo di questo ho detto quello su 2k battlegrounds secondo video inoltre vi ricordo ci saranno i risultati delle sfide che si concluso ieri della champions che poi porteranno le ultimissime sfide per approdare poi a gironi con avevo visto ieri su wikipedia il sorteggio per la fase a gironi il primo ottobre anni on quindi dal vostro nicola de luci è tutto di nuovo buongiorno e buona giornata alla prossima ciao ciao